Sono d'accordo che la logistica è un'attività piuttosto complessa e che richiede un livello di concentrazione e spesso anche fisicamente molto sollecitante. Non bisogna essere un giocatore di rugby per lavorare in logistica, ma è anche vero che molti dei nostri riempiti in logistica sono di coordinare i servizi e non sono collegati con i tassi fisici. Le più importanti attività che ci troviamo in tutti i nostri riempiti sono la comunicazione e il risultato di problemi. In realtà la funzione della logistica va molto più in là, cercando di soddisfare quelle che sono tutte le necessità, nel nostro caso dei clienti interni, che possono essere motoristi, chassisti e che quindi è un'attività a 360 gradi e non soltanto consegnare qualcosa in un determinato punto. I would like to think that there is more to logistics than parking. And one of the challenges we have in logistics to communicate our industry is that it is so broad, there are so many different jobs but most of what we do is about connecting industry together and helping the manufacturers and the service providers of this world service their customers. It has a very wide variety of jobs. We have ground, air, ocean transport and actually that's what makes it very difficult for us to describe in the past. The logistics needs to help the industry to explain itself to the general public. Non sono d'accordo sull'affermazione che la tecnologia o i dispositivi elettronici tolgono lavoro agli operatori e alle persone che abbiamo a che fare con la logistica. La tecnologia la ritengo un mezzo, però sicuramente non l'attore principale di questa attività. Senza ombra di dubbi la tecnologia ci aiuta a fare meglio il nostro lavoro, però senza le persone la tecnologia rimarrebbe un mezzo come un'altra. so obviously this is a sensitive topic, but robotics and artificial intelligence are playing an increasing role in logistics and they are revolutionising our industry. A good example of this would be our customer service representatives. Stiamo sviluppando assistenti personali a tutti i miei membri dei nostri tanti controlli, così che possano essere serviti con le informazioni che necessitano. La tecnologia sicuramente fa aumentare il nostro livello di performance. Ci semplifica gran parte dei processi che svolgiamo quotidianamente, però non sono la parte principale della performance. La parte principale della performance, ovvero le risorse principali in questo business, sono le persone. La tecnologia ci aiuta a fare cose fantastiche, ma abbiamo ancora bisogno di grandi uomini per farlo. E' sicuro di non sbagliare a questa affermazione che riguarda il livello di passione che deve avere una persona per fare bene il proprio lavoro. Nel nostro caso ulteriormente il nostro lavoro rappresenta una scelta di vita considerando la quantità di giorni di trasferta che facciamo, seguendo le operazioni direttamente dalla pista. Quindi senza ombra di dubbi per fare bene questa attività o qualsiasi altra, la passione e la voglia di far bene è la chiave del successo. Io credo che in logistica, la maggior parte dei nostri servizi trovano di lavorare in logistica perché è diversa, è interessante e è fast paceda. Molte di nostri servizi qui hanno lavorato da più di 20 anni nel business, e sono proprio ancora entusiasti oggi come quando erano quando erano. Quindi SIVA ha un numero di valori che si cercano a fare per fare il suo business, e la passione e la committura sono due valori che SIVA priorizzano. E questo significa che incontriamo le persone a avere una connessione con loro lavoro e con loro colleghi. Grazie a tutti!